Oggi sul sole 24 ore è stato pubblicato questo articolo intitolato Il Bitcoin in poche mani, lo 0,04% delle casse forti al 63% del crypto asset. Ora, questo articolo in realtà contiene un errore che a mio parere è molto fuorviante e delinea un quadro che è differente rispetto alla realtà. Infatti ad un certo punto si dice che gli indirizzi Bitcoin cui in linea di massima possono ricondursi wallet digitali con portafogli da 100 fino a 1 milione di unità della criptovaluta regina sono 16.056, vale a dire lo 0,04% del totale. L'errore sta nel fatto che questi indirizzi, cioè questi indirizzi su cui sono conservati più di 100 Bitcoin in linea di massima non possono ricondursi ai wallet. Ve lo dico in altri termini. Questa associazione tra indirizzi e wallet va bene soprattutto per gli indirizzi sui quali vengono conservati pochi Bitcoin o pochi Satoshi. Quando si va su indirizzi di grande dimensione invece è il contrario. I dati infatti sono questi. Io ovviamente vi metto il link in descrizione. È verissimo che ci sono pochissimi indirizzi con più di 100 Bitcoin, addirittura ce ne sono solo 4 che hanno più di 100.000 Bitcoin e è vero che questi indirizzi conservano un'enorme quantità di Bitcoin, in particolare il 63,14%. Ma questi indirizzi non sono indirizzi di singoli wallet, anzi in molti casi sono singoli indirizzi a cui corrispondono migliaia se non milioni di wallet. E lo si capisce già da questa pagina perché sotto ci sono i maggiori indirizzi, come vedete quello più grande di tutti è il cold wallet dell'exchange Binance, il secondo è il cold wallet dell'exchange di Bitfinex, il terzo è il cold wallet dell'exchange di Uobi. Questi exchange non conservano Bitcoin loro, cioè non è che questi 293.000 Bitcoin sono di Binance, ma sono di proprietà di migliaia se non milioni di utenti di Binance, Bitfinex e Uobi. Certo, quegli indirizzi sono gestiti da un unico soggetto, ma in quegli indirizzi non ci sono Bitcoin di proprietà di quel soggetto. Quel soggetto ha la proprietà del wallet, ma in quei wallet ci conserva Bitcoin che in realtà appartengono a degli utenti. Quindi, ripeto, ha moltissimi utenti. Al giorno d'oggi si stima che in giro per il mondo ci siano tra 100 milioni e 200 milioni di possessori di Bitcoin. Purtroppo molte di queste persone tengono i loro Bitcoin sui wallet degli exchange, cioè lasciano che a gestirli sia l'exchange. Quindi, per carità, potrebbe essere un problema perché se Binance o Bitfinex o Uobi dovessero fallire, ci sarebbe un bel problema perché quei Bitcoin chissà dove andrebbero a finire. Ma in realtà i Bitcoin conservati in quei wallet non appartengono agli exchange. Gli exchange li stanno solamente gestendo per conto di terzi, appartengono a terzi. E dovete sapere che i wallet dell'exchange sono organizzati in questo modo, cioè ci sono tantissimi wallet che sono raggruppati in indirizzi più grandi all'interno dei quali vengono spostati i token, in questo caso i Bitcoin, per la conservazione sicura sul lungo periodo. Poi, qualora gli utenti volessero ritirarli, allora gli exchange li sposterebbero da quegli indirizzi su cui ne sono conservati molti, li sposterebbero sugli indirizzi dei singoli utenti, inviandoli a loro e quindi facendoli uscire da quegli indirizzi. Detto in altri termini, sebbene sia corretto affermare che lo 0,04% delle casse forti ha il 63% del Cripsoasset, non bisogna però commettere l'errore di credere che questo 0,04% si riferisca al numero dei proprietari di questo 63%, perché i reali proprietari di questo 63% sono molti e molti di più, forse non uno, ma tre, quattro, cinque ordini di grandezza questo numero, solo che i loro Bitcoin sono conservati da un numero molto limitato di soggetti. Ora credo che si possa anche capire perché in genere si sconsiglia di tenere i propri Bitcoin presso terzi, che ne so, su un exchange. Per carità, se uno ha pochi satoshi, mal che vada perde pochi satoshi, ma se uno inizia già a avere, che ne so, un Bitcoin, e questo Bitcoin vale 30.000 euro, certo che non è una grande idea quello di lasciarlo in custodia ad un exchange di cui non si ha la certezza della sopravvivenza, quindi quando si possiede un certo numero di satoshi, una certa quantità, un certo valore, converrebbe non conservarlo su un wallet di terzi, cioè che appartiene a terzi, ma su un proprio wallet, quindi prelevarlo e metterlo su un proprio wallet. Magari è più difficile da conservare, però almeno si evitano problemi qualora ad avere problemi fosse l'ente terzo gestore, che può sempre avere i problemi, magari, che ne so, un giorno non funziona perché ha dei problemi tecnici. Quindi da un lato il problema è reale perché ci sono pochi soggetti che in effetti controllano moltissimi Bitcoin, ma dall'altro, e meno grave di quanto si possa pensare, perché questi soggetti non conservano Bitcoin e l'oro, non ne possono disporre a piacimento, ma in realtà stanno solo, conservando dei Bitcoin e di proprietà di migliaia o milioni di altre persone, che possono ritirarli in qualsiasi momento. Capite bene che tra le due cose comunque la differenza è importante, e va detta per evitare confusioni. Pertanto il problema c'è, ma è un problema di conservazione, non un problema di proprietà. Io purtroppo oggi ho ricevuto diverse richieste di informazione di persone che mi chiedevano se era vero che il 63% dei Bitcoin esistenti al mondo sono possedute dallo 0,04% di persone, e purtroppo ho, in tutti questi casi, dovuto rispondere no, la situazione è diversa. Con questo video credo di aver spiegato come stanno realmente le cose. Se poi doveste avere altri dubbi e domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto! Ciao!